Estra debutta sul mercato internazionale, collocando con successo obbligazioni per 100 milioni di euro. Il prestito, di 7 anni al 3,75%, è stato sottoscritto da investitori istituzionali. Estracom porta la fibra ottica agli edifici del centro storico di Prato. Da fine agosto sono iniziati i lavori per portare il cavo della rete stradale, già posato a suo tempo, a migliaia di appartamenti e negozi. Aperto a Arezzo il nuovo store di Estra, in funzione da luglio nella centrale via Garibaldi, il nuovo punto clienti è aperto anche il sabato mattina e ha tre sportelli, più uno per l'accoglienza. Con l'arrivo della rete gas a Marina di Grosseto, Estra offre procedure semplificate di allacciamento alla rete e vantaggiosi contratti luce e gas.